Adilante un fin di settimana con bastante attività carnavalesca, bastante attività tribuaccaia, un mensaggio naturalmente di una natura più grande, di una natura più grande qui in Aruba. Il nostro turismo è un bianco di carnaval di una forma bonita, di una forma positiva. Da 60 anni di celebrazione non siamo consienti che la necessità di celebrare è un aspetto importante della nostra cultura, della nostra economia, di noi come arubiano, però naturalmente non si chiamano un mensaggio serio per la comunità. Pensa che è il fin di settimana che il mondo non si accade, la vita non si accade. Il nostro paese è un paese cívico, la nostra persona è un paese di celebrare, e ci sono stati comportati. Per mangiare, buona vittura, un'arrake con justicia, per buona vittura, il progetto di fai a bohaya, comportati dignamente, pensa arrivare a bohaya, per complaceri altri, pensa che abbia un personaggio arrivare a bohaya, per essere respettati a bohaya, per essere la nostra dignità. E naturalmente, la maggior parte è un po' più consiente, per noi, per noi, durante il periodo che non si accade, con più enfasi, ma sobra che abbia un po' di fai a bohaya, con la quantità di bambini, con una certa attività, la parte è più consiente, non si accade, nel momento in cui bebe alcool, la nostra persona si accade, se può, naturalmente, quita il uso di alcool completamente, o fa il saque con mat, quindi, sicuramente, non stiamo a rinforzare il pensamento e vorreggare il fin di settimana qui, ci chiamo un messaggio per la nostra comunità, passiamoci per la nostra vita, con la nostra vita, con la nostra célébrità di una forma positiva e che non ci vediamo nessun incidente negativo di nostra juventù.